In una giornata come le altre, di esatti dieci anni fa, nell'isola di Utoia si è consumato il più sanguinoso attacco avvenuto in Norvegia nel dopoguerra. Sul piccolo lembo di terra, che ospitava circa 600 giovani per un campo politico, organizzato dal partito laburista, un estremista di destra con dichiarate simpatie neonaziste iniziò a sparare sui ragazzi. Fu un massacro, 69 i morti, a cui, nella contabilità del dolore, vanno aggiunte le otto vittime della bomba esplosa davanti agli edifici del governo di Oslo. Alla vigilia del decimo anniversario, durante una cerimonia di commemorazione, la premier norvegese Erna Solberg ha detto che l'odio non può restare incontrastato. Per la strage è stato condannato a 21 anni di reclusione il massimo della pena in Norvegia Anders Behring Breivik, classe 1979. Breivik sconta la pena in un vivibile carcere di massima sicurezza ed è tenuto in una cella di 30 metri quadrati dotata di televisione PlayStation. Può andare in palestra. Nel luglio 2015 ha iniziato un corso di scienze politiche all'Università di Oslo. Nel 2016 lo stragista ha comunque intentato causa contro il sistema carcerario norvegese riguarda una presunta violazione dei suoi diritti umani.